Primo test stagionale, ma soprattutto è il momento di fare un bilancio di queste primissime settimane di preparazione. Come sta andando questa nuova Wix LPR? Allora, sta andando molto bene, siamo un po' forse affaticati dalla preparazione. Prima amichevole è andata bene, ho anche giocato, mi sono già preso le parole. Tu ormai sei un veterano di questa squadra, come ti sembra questo gruppo? Allora, sono un veterano ma che raccoglie ancora i palloni, quindi non so se chiamarlo proprio veterano. Di questa squadra un veterano? Veterano di questa squadra, però mi piace molto questo gruppo, un gruppo di giovani che voglia di lavorare e per adesso sta andando molto bene secondo me. Da palleggiatore com'è l'intesa con i nuovi e poi con i centrali che è l'aspetto un pochino più complicato? È buono, è buono, i centrali sono quelli dell'anno scorso quindi ci troviamo già un po' di più con quelli nuovi, stiamo lavorando in allenamento e cerchiamo ogni volta di far meglio, forse in questa amichevole non sono venute tutte le cose che abbiamo provato, però è lunga la preparazione e ci sarà tempo. Le caratteristiche che hai notato in questa prima fase, soprattutto dei nuovi arrivati, quindi dei camerunense e degli israeliani? Allora, mi piace far serata tutte e due, no dai, oltre a questo scherzo, intanto Cody, uno che salta, salta un metro e anche due e quindici, quindi la palla la prende molto alta e mi piace molto e secondo me ci sarà molto da lavorare, potrà migliorare tantissimo e anche Tamir, Tamir è un buon giocatore, ha una palla molto veloce e mi piace molto.